Mister, arriva la Virtus Entella, è la squadra unanimemente considerata la favorita per vincere il campionato, ha perso in casa mercoledì, ha perso come l'Arezzo, chi ci arriva meglio a questa partita? Secondo me ci arriviamo bene tutte e due, nel senso che al di là della sconfitta in sé, noi abbiamo recuperato sia dal punto di vista fisico, perché già oggi i ragazzi stavano bene, sia dal punto di vista morale, può succedere di incappare in una sconfitta, ci dispiace solo perché secondo noi, secondo me, soprattutto per quello che hanno prodotto i ragazzi, non è una sconfitta meritata, però il calcio non va ai punti, va a chi fa gol e chi non lo prende, quindi la accettiamo e tentiamo di far meglio. Come gioca Entella Mister e come neutralizzare una squadra che ha costruito un organico per giocare in B? Una squadra molto simile a noi, sia nel modulo che nella tipologia di calcio, ha giocatori di grande qualità, si può permettere di cambiarne tanti tra una partita e l'altra, vuol dire che pensano di non avere squilibri, è una partita aperta da qualsiasi risultato, sono due squadre che tenteranno di superarsi senza fare particolari ostruzionismi e vediamo che succede. L'Alezzo ha perso dopo due mesi di imbattibilità, non vince da tre giornate, ha la sensazione che la squadra stia un po' tirando il fiato, Mister, in questo momento, oppure no? No, perché le non vittorie sono state due pareggi al novantesimo rimontati a noi, è vero che invece in casa pure noi ci aspettavamo magari di fare qualcosina di più nelle due gare che abbiamo pareggiato, a dire la verità, io ero pure convinto che potevamo andare a Piacenza e fare la nostra, visto come avevamo condotto le due in casa, eravamo molto fiduciosi, il calcio va così, è inutile fare drammi anche perché non c'è un problema grave da risolvere, è una fase che va così, nel calcio, come dissi già la settimana scorsa, non sempre c'è una spiegazione per tutto, una volta c'è la giornata, una volta piove, una volta nevica, una volta un giocatore c'è mal di pancia, una volta c'è mal di piedi, andiamo avanti. Mercoledì a Piacenza dopo la partita ha detto che dobbiamo essere realisti e non presuntuosi nell'analizzare il rendimento di questa squadra, che cosa voleva dire? No, non mi è piaciuta senza tanti giri di parole, il fatto che sia stata puntata la squadra un approccio sbagliato, io non l'ho visto, noi nei primi dieci minuti abbiamo avuto tre situazioni per andare in vantaggio, una squadra che approccia male non fa quello che abbiamo fatto noi, ma al di là di quello il primo tempo l'abbiamo condotto secondo me bene, sono rimasto contento di come i ragazzi hanno applicato, è vero che non abbiamo avuto occasioni da gol spaventose, però non è che a Piacenza abbiamo vinto con due palle rubate al settantesimo, non è che prima avessimo prodotto chissà cosa il calcio, va per quando c'è bisogno di farlo, che lo dobbiamo fare, e oggi invece noi secondo me siamo un po' pannati in questo, nel senso che per la mole di lavoro che facciamo concretizziamo poco, senza puntare il dito su nessuno, siamo qua apposta per lavorare, lo facciamo in modo sereno, senza avere l'assillo che, perché tanto la classifica l'avevamo vista tutti, se avessimo vinto ci riattaccavamo a quella di testa, però c'è un disegno per tutto, di che stiamo là e mastichiamo per star là. A mente fredda l'espulsione di Basit e anche l'ammunizione di Pinto al 92esimo, che idea si è fatta? Basit in certe situazioni si deve fare un po' più mestierante, un po' più furbo, perché ha subito un fallo grave da Nolè e paradossalmente è stato espulso lui, questo non vuol dire essere scorretti e fare la sceneggiata, perché uno, come ha fatto Santini qua da noi, però ha fatto stare che Santini mi ha fatto espellere Pelagati e noi invece abbiamo Basit buttato fuori. Siccome siamo in una categoria dove non c'è il VAR, fanno confusione pure in Serie A col VAR, da noi manco c'è, bisogna che ci facciamo un po' più furbi, tutto là. Pinto? Pinto no, secondo me non è da munizione, non voglio stare a pensare che sia qualcosa che non deve essere, però insomma ci ha penalizzato gravemente su una situazione secondo me non commentabile. Pelagati ha il ricorso in sospeso, però le chiedo a, in questo momento, se non dovesse esserci, chi gioca dietro domenica? No, se non lo recuperiamo, gioca Burzigotti, sono tranquillissimo, ho visto il ragazzo in condizione di darci la mano, chiaro che arriva da un infortunio grave, da sette mesi quasi, cinque mesi scusa, di inattività, spero che duri il più lungo possibile per un ragazzo che sia sempre allenato al massimo delle sue potenzialità, quindi lo mandiamo dentro tranquilli.